Buongiorno a tutti elettronauti, benvenuti come ogni domenica in questo nuovo video, il video delle news della settimana. Parleremo di competitor di Tesla che si fanno sempre più agguerriti, un super bollo per le auto elettriche, parleremo poi di ricarica e tanto altro. Come sempre, sedetevi comodi e benvenuti in questo nuovo video. Partiamo con la notizia più preoccupante di oggi, il super bollo sulle auto elettriche. Fortunatamente non si parla dell'Italia, ma la cosa comunque è preoccupante. Parliamo infatti dello Stato del Texas che sta esaminando un provvedimento fiscale per imporre agli acquirenti di auto elettriche il pagamento di una somma annuale di circa 200 dollari, 168 euro circa. Non si capisce se sia calcolata questa cifra oppure se è una cifra buttata lì così. Questa nuova tassa ovviamente verrà introdotta perché la gente compra sempre meno benzina e quindi non c'è un rientro apprezzabile delle accise. Ma a cosa servono queste accise? Beh, in Texas servono per coprire i costi della manutenzione delle infrastrutture stradali e visto che le strade le solcano anche le auto elettriche, il Texas sta pensando di inserire altre tasse. Oltre a quella del bollo, intendo, eh? Si parla di altri 190 dollari per chi percorre più di 9 miglia all'anno e un supplemento annuale di altri 10 per finanziare la realizzazione delle infrastrutture per la ricarica. Se passerà la legge, entrerà in vigore dal 1 settembre 2021 e lo Stato del Texas, si stima, riuscirà quindi a generare entrate fiscali per 37,8 milioni di dollari e dentro il 2026, con l'aumento del parco circolante, saranno circa 136 milioni di dollari. La cosa positiva è che non tutti gli stati stanno pensando a inserire questo tipo di imposta. Stanno invece valutando di inserire tasse chilometriche o sul peso della vettura. Vabbè che tanto le auto elettriche pesano un casino, quindi... Mettiamoci una pietra sopra. Prima o poi ci toccherà anche a noi pagare qualcosa. A proposito, secondo voi quanto tempo passerà prima che anche da noi in Italia si comincerà a pagare il superbollo o altre tasse anche sui veicoli elettrici? E già che stiamo parlando di Italia, ho una buona notizia per voi. I supercharger Tesla arriveranno finalmente nelle isole. Ci sono voluti un bel po' di anni e pressioni, ma finalmente ci siamo. In queste ultime settimane Tesla ha infatti aperto tre nuovi superchargers. Uno in Sicilia, a Catania, e due in Sardegna, ad Olbia e da Oristano. Qualche domenica fa già vi parlai delle colonie di ricarica nelle isole con il progetto di Enel X. Bene, ora in Sicilia, a Catania, oltre alle 60 colonie di ricarica Enel, si aggiunge anche il primo supercharger Tesla. È piccolo per ora. Tesla ha infatti appostato solo quattro stalli da 250 kilowatt, quindi 4 V3. Ma però ci sono altri ulteriori stalli pronti per un futuro upgrade. Rimaniamo per un attimo ancora in tema ricariche. Come sapete, la piaga più grande in questo momento sul tema colonine, secondo me, è l'interoperabilità. Vabbè, il fatto che ce ne sono poche, ma per il momento accontentiamoci di quelle che sono. Ma appunto la cosa che odio di più è l'impossibilità di poter utilizzare un'app o una sola carta di ricarica per tutte le marche di colonine esistenti. Esistono già alcuni che stanno lavorando con questa interoperabilità, ad esempio i V-Way, ma oggi non parliamo di lei, parliamo di Telepass. Sì, proprio di Telepass, perché permetterà di ricaricare le auto elettriche tramite la sua app. Per ora questo accordo l'ho raggiunto solo con B-Charge, ma spero che prima o poi subentreranno anche altri, come ad esempio Enel X o A2A. Sarebbe proprio bello non dover far altro che aprire l'app Telepass per ricaricare su tutte le colonnine. E poi non serve neanche inserire un nuovo sistema di pagamento da un'altra parte. Ormai praticamente la mia carta di credito ce l'hanno tutti. Mentre invece così, essendo che già il Telepass è collegato, non so, al conto corrente, non ci sarà bisogno di fare altro. Non vi è intelligente. E continuiamo a parlare di energia green e anche di Tesla, perché è notizia di qualche giorno fa che in California è stato attivato un sistema di accumulo di energia da 100 MWh, totalmente composto dai Tesla Megapacks, con pannelli fotovoltaici ed energia eolica. Questo sistema probabilmente è stato aperto anche per mitigare i problemi recenti che sta subendo la California. Non so se guardate il telegiornale, ma in America stanno avendo veramente dei picchi importanti di caldo e come vi ho spiegato anche la scorsa domenica, l'utilizzo incontrollato di condizionatori d'aria, eccetera, eccetera, potrebbe rendere instabile la rete del paese. Anche Elon Musk recentemente, durante una riunione con gli azionisti, ha dichiarato che per normalizzare l'utilizzo della corrente, se si vuole passare alla sola energia green, occorrerà un grande sforzo e l'idea più interessante è proprio quella di installare questi sistemi di accumulo giganti con annessi pannelli fotovoltaici, proprio a livello cittadino, così da riuscire a normalizzare l'afflusso di corrente proprio in quel paese. Beh, appunto in California è stato attivato questo enorme sistema di accumulo, che sarà capace di alimentare per 30 minuti tutta la contea di Ventura, composta da circa 846.000 abitanti, oppure per 4 ore la città di Oxnard, composta da 209.000 abitanti. Guardate la mia faccia! E ora passiamo dai miglioramenti nello stato della California ai miglioramenti di un'auto di cui vi ho già parlato in passato. Ve la ricordate? Sto parlando di Sion Sono, che ora ha una batteria da 54 kWh che permetterà di percorrere 305 km. Sono comunque pochi per una batteria così grande, contando che almeno Tesla, poi del 3 standard range, ha la stessa batteria e fa circa 50 km in più. Comunque, inutile dire che ormai le aspettative per quest'auto sono veramente molto molto alte, ma la vedremo prima o poi. Ah, e dimenticavo a proposito di pannelli solari. La Sion, se non ve lo ricordate, è ricoperta da piccoli pannelli solari, appunto subito sotto il primo strato di trasparente della carrozzeria. Ecco, anche i pannelli solari sono stati migliorati ed ora possono produrre fino a 112 km a settimana. Continuiamo a parlare di auto e di batterie. È notizia di qualche ora fa che Volvo intende trasformare la sua fabbrica di Ridgeville in California del Sud nel suo primo impianto dove produrre esclusivamente auto elettriche. Si inizierà con XC90 ed XC60. Questa notizia è sicuramente molto positiva. Sta a significare che Volvo crede fermamente nell'elettrico ed ha intenzione di spingere forte sull'acceleratore. E non è l'unica. Anche Renault balza nelle news di oggi, anche se in un modo che non mi piace tanto. Vabbè, ve lo spiego in ogni caso. Renault ha presentato da qualche giorno il suo piano strategico, una roadmap ambiziosa che mira a rendere le auto elettriche convenienti, popolari e competitive. Tramite, però, la chimica delle batterie basata su nickel, manganese e cobalto. Con questa, i francesi prevedono di ridurre il costo per kilowattora al di sotto dei 70 euro. E va benissimo, ma cavoli, ancora cobalto? E dalla Francia passiamo ancora una volta agli Stati Uniti per la nostra ultima succosa news della settimana. Lucid Air ha dichiarato di aver ricevuto più di 10.000 preordini delle sue vetture, con quote da circa 7.000 dollari a preordine. Però, non male, ragazzi. Sono tanti, tanti soldi. Inutile dire che le aspettative sono molto alte e speriamo che non vengano meno. Vi ricordo che Lucid Air si posiziona come competitor nel segmento delle berline premium elettriche come Model S e Taycan. E se devo dire la turta, mi piace sia esternamente che internamente. Questione di gusti, chiaro. Ma ha un non so che che mi piace molto. La vedrei veramente bene sulle strade italiane. Anzi, spero che arrivi veramente molto presto. Ah, e dimenticavo. Avendo avuto la Porsche Taycan per circa 10 giorni, ho potuto apprezzare molto l'avere un cockpit dietro al volante degno di nota. E quel cockpit curvo che ha Lucid Air mi ricorda molto quello della Taycan. Il sistema operativo di Lucid sembra ben fatto, probabilmente non come quello di Tesla, ma staremo a vedere. Diciamo che a livello di motori, prestazioni, autonomia, Lucid Air, almeno sulla carta, è molto interessante. Ripeto, staremo a vedere. Ebbene, elettronauti, il video di oggi finisce qui. Non ci sono altre news interessanti da segnalarvi. Come sempre, ci rivediamo ogni martedì e venerdì con un nuovo video, su Instagram e Facebook, tutti i giorni con qualche story interessante, e la domenica ancora con il riassunto di cosa è successo nel mondo elettrico. Di modi per rimanere connessi con me, ce ne sono molti, quindi decidete quale e iscrivetevi. Ci vediamo presto e buona domenica.